Buongiorno da Sicilia 24 e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Parliamo di cronaca partendo dal Catanese dove i carabinieri hanno tratto in arresto due fratelli. Le accuse nei loro confronti sono piuttosto gravi, si parla di spaccio di stupefacenti, detenzione di armi e non solo. Vediamo il servizio. Su delega della procura distrettuale della Repubblica alle prime ore dello scorso 7 gennaio 2023 a Mascali un dispositivo di oltre 60 unità del Comando Provinciale Carabinieri di Catania Costituito dai militari delle compagnie di Randazzo e Giarre, dal nucleo investigativo e dalla liquida di primo intervento supportati operativamente dai colleghi dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia e del nucleo Cinofili, ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di due fratelli Giuseppe e Daniele del Popolo Marchitto, i quali annoverano un consistente curriculum criminale per delitti contro la persona, il patrimonio e sugli stupefacenti, ritenuti responsabili in concorso di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, danneggiamento aggravato e violenza privata. In aggiunta a Daniele del Popolo Marchitto è stato contestato anche il reato di evasione, nonché l'aggravante di aver commesso le condotte illecite, mentre si era volontariamente sottratto all'esecuzione di un ordine di carcerazione. Quest'ultimo infatti approfittando di un permesso premio, lo scorso 11 ottobre non era più rientrato nel carcere di Favignana, dove doveva scontare ancora sei anni di reclusione. L'indagine, coordinata dalla procura distrettuale e condotta dal nucleo operativo e radiomobile di Randazzo e dal nucleo investigativo di Catania, attraverso incessanti attività tradizionali e tecniche ulteriormente riscontrate da escursioni testimoniali, ha consentito di accertare come i due soggetti illegalmente avrebbero detenuto e portato con sé i luoghi pubblici delle armi da fuoco perfettamente funzionanti. Considerata pertanto la gravità e pericolosità delle fattispecie di reato contestate, il GIP Teneo ha ritenuto di emettere un provvedimento volto all'applicazione della misura coercitiva maggiormente restrittiva a carico dei due pregiudicati, eseguita dai caribinieri in meno di 24 ore. A riguardo per quanto attiene alle modalità tattiche dell'intervento, poiché i fratelli erano da ritenersi potenzialmente armati e pericolosi, la prima irruzione nell'appartamento scelto dai due per nascondersi, un residence a Mascali, è stata condotta dalle aliquote di primo intervento di Catania. Queste ultime, riuscite rapidamente ad accedere ai locali interni insieme agli altri militari operanti, hanno bloccato e reso inoffensiva la coppia, effettivamente in possesso di due pistole calibro 9,21, cariche e con il colpo in canna, pronte pertanto a far fuoco. Le successive attività di perquisizione dei locali e mezzi nella disponibilità dei due fratelli hanno poi permesso di recuperare e sequestrare quasi 2.000 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività di spaccio, vari tipi di stupefacente come cocaina, hashish e marijuana, strumenti per la pesatura, il confezionamento e il taglio delle sostanze illecite. Terminati gli atti di rito, i due uomini sono stati associati alla casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, dove sono attualmente ristretti. Controlli della Polizia di Stato nel territorio della provincia di Caltanissetta. Il bilancio parla di tre arresti e nove persone denunciate. Tutti i dettagli nel servizio. La Polizia di Stato di Caltanissetta nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia ha eseguito tre arresti, denunciato all'autorità giudiziaria nove persone, eseguito dieci perquisizioni e sequestrato hashish. Un 37enne è stato arrestato in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, dovendo scontare due mesi di pena residua per danneggiamento. Due persone che si trovavano nei domiciliari sono state invece condotte in carcere per l'aggravamento della misura cautelare cui erano sottoposti. Due pregiudicati sono stati denunciati per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Un quarantenne sorvegliato speciale della pubblica sicurezza per violazione delle prescrizioni. Cinque persone sono state deferite per furto. Un 37enne e un 17enne per aver asportato delle bottiglie di liquore da un supermercato. Due per furto in abitazione e un 47enne per tentato furto. Un ventenne infine è stato trovato in possesso di hashish. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 10 perquisizioni personali. Nuovi sviluppi e aggiornamenti da Campobello di Mazzara dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Si allunga la lista dei fiancheggiatori del boss Messina Denaro finiti sotto indagine. Nel registro degli indagati sono stati scritti Vincenzo e Antonio Luppino, figli di Giovanni Luppino, l'uomo incensurato che ha accompagnato il capo mafia alla clinica Maddalena dove entrambi sono stati poi arrestati. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei due Luppino. Nell'appartamento di Vincenzo è stata trovata una sorta di stanza nascosta che è stata perquisita ed è risultata vuota. Nei giorni scorsi, in un'area recintata di proprietà proprio dei Luppino, la polizia ha trovato la Giulietta utilizzata dal boss Matteo Messina Denaro per i suoi spostamenti. Cambiamo argomento, notizia adesso da Catania, controlli della polizia di Stato con gli agenti che hanno scoperto una discoteca abusiva. Si tratta di un circolo privato che era stata appunto trasformata in discoteca ma senza le autorizzazioni, ovviamente è scattata la chiusura. Nel corso dei servizi finalizzati all'accertamento delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici e in particolare in materia di sicurezza e quiete pubblica, personale della divisione Pasi della questura di Catania, la notte tra il 21 e il 22 gennaio scorsi ha chiuso una discoteca abusiva del centro cittadino. Gli agenti hanno accertato che il locale autorizzato come circolo privato svolgeva in realtà una vera e propria attività di discoteca e di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche consentendo l'ingresso a chiunque pagasse un biglietto. All'interno dei locali era stata allestita una pista da ballo di circa 300 metri quadri dove sono stati trovati intenti a ballare circa 250 fruitori. Pertanto sono state deferite due persone in concorso tra loro in quanto per la discoteca in argomento non era stata effettuata la necessaria verifica della commissione tecnica attestante la solidità e la sicurezza dell'edificio nonché l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio a tutela chiaramente dell'incolumità pubblica. Il presidente dell'associazione è stato inoltre sanzionato perché sprovvisto della licenza rilasciata dal questore di Catania per tenere trattenimenti danzanti e poiché effettuava somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche senza la prescritta autorizzazione. Restiamo a Catania dove un minorenne gestiva improprio lo spaccio di sostanze stupefacenti ma è stato beccato dai carabinieri e ovviamente tratto in arresto. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un giovane di 17 anni già conosciuto dalle forze dell'ordine responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari a seguito di un'attività info-investigativa svolta per il contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti avevano appreso che un giovane in via Villa Glory nel quartiere di Picanello aveva avviato una fiorente attività di spaccio di droga. I conseguenti servizi di avvistamento svolti dai militari in quella zona effettivamente avevano consentito loro di verificare come un ragazzo apparentemente di giovanissima età era solito fare il suo ingresso all'interno di un'abitazione per uscirne dopo pochi secondi dirigendosi verso via Gagliatolo, circostanze queste ripetutesi più volte nel corso dell'osservazione. Hanno così deciso di fare il loro ingresso in quell'abitazione, ciò in considerazione del fatto che la porta di quell'abitazione era socchiusa e che dal suo interno fuoriusciva un forte ed inconfondibile odore resinoso tipico della marijuana. Dopo aver fatto il loro ingresso all'interno di quella casa, dove quasi contestualmente era rientrato quel giovane che avevano visto più volte entrarvi, il 17enne appunto, i militari si sono qualificati a quest'ultimo, il quale ha candidatamente loro ammesso di detenere alcune dosi di marijuana. In particolare, aspettato inutilmente l'arrivo dell'esercente della patria potestà sul minore, i militari hanno dato inizio alla perquisizione rinvenendo 15 dosi di marijuana singolarmente confezionate per un peso complessivo di 30 grammi, due scatoline contenenti alcuni semi di canapa, un bilancino di precisione, una cartuccia calibro 7,65 ed il materiale necessario per il confezionamento della droga. Il 17enne è stato condotto presso il locale centro di prima accoglienza di via Franchetti, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la collocazione presso una comunità alloggio per minorenni. E a proposito di spaccio di droga, ci spostiamo in questo caso a Terme, Vigliatore, nel Messinese, dove i pusher, tra le altre cose, consegnavano anche la droga a domicilio per coloro che erano ristretti ai domiciliari. Vediamo il servizio. A Terme, Vigliatore, nel Messinese, i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della locale stazione, con l'ausilio delle unità cinofile di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone del posto, già note alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 28 e i 47 anni, ritenuti responsabili di detenzione illecita e vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti in concorso. Il nome dell'operazione, Takeaway, deriva dalle modalità con le quali gli indagati consegnavano lo stupefacente agli assuntori. Gli arrestati, infatti, avrebbero attuato un sistema di smercio della droga che prevedeva l'accessione agli assuntori delle dosi di stupefacente attraverso le finestre del loro appartamento e la consegna, immediatamente dopo, della somma corrispettiva di denaro al portone successivo. Questa modalità era adottata per accelerare lo scambio di droga ed eludere quindi i controlli delle forze dell'ordine. L'attività d'indagine è nata grazie ai servizi di controllo sul territorio messi in campo dalla stazione Carabinieri di Termo Invigliatore che avevano già evidenziato un intenso via vai di presunti assuntori di droga nella palazzina in questione, luogo di residenza degli indagati. Le successive attività investigative e relativi approfondimenti hanno permesso ai militari dell'arma di avvalorare la propria tesi e acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei presunti spacciatori. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di aver trattato in maniera specifica la vendita al dettaglio di marijuana e hashish, riuscendo in un'intera giornata a vendere oltre 50 dosi per un prezzo medio di 12 euro per grammo di sostanza stupefacente. Molto giovane anche la platea di assuntori, i più piccoli di 16 anni fino ai più grandi di 35. Nel corso delle indagini è emerso inoltre che gli indagati, oltre all'attività di spaccio nel proprio domicilio, avrebbero rifornito altri clienti sottoposti a misure detentive nelle rispettive abitazioni per lo più di nazionalità extracomunitaria, consegnando le dosi di stupefacente direttamente nelle loro abitazioni. Quindi gli spacciatori, dal servizio take away per gran parte degli acquirenti, passavano a un vero e proprio servizio a domicilio per chi, per motivi di giustizia, non poteva uscire di casa. Al termine delle formalità di rito, così come disposto dalla locale autorità giudiziaria, tre indagati sono stati ristretti nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa degli interrogatori di garanzia. A Palermo è stato arrestato un ladro seriale, autore di diversi furti, in abitazione. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di un 23enne pregiudicato palermitano. Il provvedimento, eseguito dagli agenti della sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza Oreto Stazione, scaturisce dall'esito di una serie di attività investigative tradotte in un complesso quadro indiziario sviluppato attraverso l'analisi di filmati registrati da diversi impianti di videosorveglianza, nonché individuazioni e riconoscimenti fotografici che hanno permesso di risalire al responsabile di una serie di reati predatori consumati nel centro storico di Palermo tra il 30 giugno e l'8 agosto del 2022 che avevano destato notevole preoccupazione e allarme sociale. L'uomo si sarebbe reso artefice di cinque episodi di furto in abitazione e di un episodio di rapina consumati attraverso lo stesso modus operandi. Introducendosi nottetempo nelle abitazioni delle vittime, spesso poste ai primi piani e raggiunte attraverso condutture e grondaie rubava denaro contante, gioielli e apparecchi cellulari. In una di queste circostanze il 23enne ha iniziato una colluttazione con una vittima che si è svegliata di soprassalto e ha tentato di difendersi dall'intrusione del malvivente, il quale non ha esitato a malmenare la vittima pur di assicurarsi la refurtiva e guadagnare la fuga. Il soggetto, all'atto dell'esecuzione, è risultato sottoposto alla misura restrittiva in carcere poiché nel recente passato, trattenuto agli arresti domiciliari per il furto aggravato di un ciclomotore commesso lo scorso ottobre e in attesa della direttissima, aveva violato le prescrizioni rendendosi irreperibile nella propria abitazione fino a che non era stato rintracciato pochi giorni dopo, sempre dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza o reto stazione e sottoposto alla misura cautelare in carcere. È tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie. 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 Grazie.